L'estate piovosa ha ridotto il numero degli incendi sul territorio ma il pericolo rimane. Il nostro Matteo Parlato è andato alla Centrale Operativa del Corpo Forestale per capire cosa fare per prevenire questo danno ambientale. Centrale Operativa Nazionale 1515 del Corpo Forestale dello Stato. Questo è il punto dove da tutta Italia arrivano le segnalazioni sulle cose storte che succedono nel nostro paese. Incendi e? E anche altro. Qui sul nostro sistema informativo della montagna vediamo che abbiamo in corso attività di soccorso animali, discariche in esercizio, lavoriamo sul bracconaggio, soccorriamo persone. Ci avvaliamo di una situazione in tempo reale in cui possiamo vedere dove avvengono gli incendi e anche dove mandiamo i mezzi aerei per contrastarli. Ecco, voi fate contrasto ma quanto conta per voi la prevenzione? Quanto volete essere chiamati anche per avere segnalazioni? Noi abbiamo assoluta necessità di essere il punto di riferimento per tutti i cittadini che vogliano segnalarci qualcosa che non va sull'ambiente. Noi peraltro siamo ovunque, andiamo dalle spiagge alle montagne e costituiamo la forza di polizia che sta più lontana rispetto alle città e quindi i nostri clienti, i cittadini che sono in montagna ci chiamano per segnalarci ciò che non va. Torniamo agli incendi, siamo ad agosto, un mese critico. Intanto com'è la situazione in questo momento? Sta andando molto bene, abbiamo una grossa riduzione di incendi rispetto agli anni passati, rispetto alla media degli anni passati. Sia l'anno scorso che quest'anno c'è stata questa riduzione grazie sicuramente ad un intervento favorevole del clima, quindi delle piogge che sono arrivate, ma anche legato al fatto che stiamo applicando il divieto di accensione di fuochi nel periodo di alta pericolosità, quindi dal 15 di giugno al 30 di settembre, verificando che gli incendi sono diminuiti. Sente, lei prima mi diceva che l'incendio in bosco non è solo un incendio in bosco, è proprio un danno economico alla comunità. Ce lo vuole quantizzare? Beh, noi abbiamo delle idee molto chiare su questo. Una giornata di Canader che viene impiegato per spegnere un incendio che viene appunto mandato dalla flotta aerea nazionale, ci costa almeno 50.000 euro. Ogni ettaro bruciato ci costa sui 6.000 euro legati al danno ambientale, quindi il dato del mancato reddito, il reddito economico derivato dal bosco, la regimazione compromessa dei flussi idrici, quindi il dissesto idrogeologico. Facciamoci conti, 10 ettari ci costano almeno 60.000 euro, quindi 50.000 più 60.000, diciamo che un incendio ci costa almeno 100.000 euro che noi paghiamo con i soldi delle nostre tasche. Quindi proteggere è assolutamente necessario, ma soprattutto prevenire segnalando al 1515 è assolutamente necessario.